Si è svolto tra Como e Schignano il quinto Lago di Como Eco Green, competizione sportiva organizzata dall'Automobile Club Como con auto elettriche, ibride e bifuel. In occasione di questa gara, AC Como ha deciso di organizzare due campionati italiani dedicati ai veicoli energie alternative, il Green Hill Climb e il Green Endurance. Il primo, svoltosi nel territorio di Schignano, prevedeva una gara di regolarità in salite Eco Green per vetture ecologiche suddivise in tre manche ed è stato vinto da Nicola Ventura davanti a Giovanna Pasello e Andrea Cagliani. Il secondo invece ha preso il via venerdì con un giro lotturno del Lago di Como e si è concluso con un giro della Brianza con partenza e arrivo al Tempio Voltiano di Como. Ad avere la meglio è stato ancora una volta Nicola Ventura, questa volta con Monica Porta, con una Renault Clio e Tecca, doppia alimentazione e ibrida in metano. Secondo posto per Francesco Mazzetti e Alessandro Boschiroli su una Zoe ZE50 elettrica. Terzo per l'equipaggio composto da Omar Frigeri e Oriana Pozzi con una Kia Picanto a doppia alimentazione, benzina e GPL.